Ciao ragazzi, benvenuti. Grazie Ale. Oggi anch'io non so cosa guardare adesso, è un disastro. Ciao a tutti, bentornati sul canale. Oggi abbiamo Alessandro e Chiara, marito e moglie. Ale ha fatto un intervento di chirurgia dell'obesità che adesso ci racconterà e Chiara l'ha sostenuto in tutto il percorso. Allora ragazzi, due parole su di voi. Allora, io sono Alessandro, ho 40 anni, vivo in provincia di Bergamo. A luglio dell'anno scorso, il 26 luglio precisamente, sono stato sottoposto a sleeve gastrectomy. Niente, la mia vita è cambiata radicalmente e cambiata ovviamente in meglio. È stato un taglio col passato e fortunatamente è stata una delle scelte migliori che abbia mai fatto. Ecco. Quanto tempo è passato da obeso prima? Praticamente tutta la vita. Io non ho familiarità, quindi in famiglia non ho nessuno di obeso, ma già dall'adolescenza, anzi, già dalla pubertà ero già assolutamente obeso. Pesavo 80 kg quando avevo circa 12-13 anni, 14 insomma, sono arrivato in quinta superiore, quindi vicino agli 18 anni che ne pesavo 135 e da lì è stata un'escalation fino appunto a poco prima dell'intervento, ad aprile dell'anno scorso, in cui sono arrivato a pesare 173 kg e mezzo. E mezzo? E mezzo, sottolineiamolo, sì. Quindi ti ricordi qual era il tuo indice di massa corvorea? 52-53 circa, sono altro 1,80 m. Si fa in fretta a calcolare. Cos'è che ti ha spinto a un certo punto a dire adesso basta? È stata una concomitanza di fattori, la consapevolezza di non poter tirare avanti, perché era un tirare avanti in quel modo, ci ha fatto aprire C, e dico C perché tutti e due l'abbiamo deciso praticamente in un singolo momento di voler svoltare. Questo è successo molti mesi prima della S.L.I.V., ad aprile dell'anno scorso, ci siamo detti vogliamo cambiare, da lì è partito tutto per corso, che poi ci ha fatto conoscere anche la S.L.I.V., che io personalmente non conoscevo prima. Un anno fa avreste mai detto che sareste arrivati qui? No, mai. Cioè non dico qui. Qua no. Hai risultati anche perché se uno ti incrocia per strada, mai più pensa che tu sia stato beso. Devo dire la verità che ho tanti, io faccio un lavoro dove sono a contatto con il pubblico, ho tanti clienti fidelizzati, diversi clienti quando ritornano, quando stanno, quando tornano adesso a trovarmi a lavoro, mi dicono ma sei tu, ma ti ho riconosciuto dalla voce, ma non pensavo che ci fosse qualcun altro. Uno addirittura il gemello. Il gemello, sì, ma siete i tuoi gemelli, tu sei quello più male. Ed effettivamente io non me ne rendo conto, cioè capisco di essere cambiato, non me ne rendo conto, ma ovviamente sì, è tutto cambiato, anche l'aspetto esteriore e anche quello interiore. Quindi avete scoperto insieme la sleeve, avete avuto paure e dubbi insieme, suppongo. Lui di meno, meno dubbi, lui era stra-gasato, proprio lanciatissimo. Io avevo paura, onestamente, perché comunque è sempre un intervento, insomma, abbastanza invasivo. Poi, diciamo, la tecnica ormai è rodata, tutto quello che vogliamo, però, quindi ero abbastanza preoccupata, per così dire. Però lo vedevo veramente, per la prima volta, l'ho visto focalizzato su se stesso, su un obiettivo che lui voleva raggiungere per la sua salute, quindi ho detto bisogna farlo. Ci fidiamo, ci affidiamo dai professionisti, ovviamente, a una struttura di un certo livello, e quindi ci siamo lanciati. Esatto. Allora, hai detto che non sapevi niente della sleeve fino a un anno fa oggi. Sei la persona, siete le due persone perfette a cui chiedere come vi hanno accompagnato alla chirurgia dell'obesità. Cosa avete trovato come supporto, se vi hanno proposto meno percorsi psicologici, se ne avete sentito il bisogno, sia come paziente che come moglie del paziente. Prima ci tengo a precisare una cosa, però abbiamo fatto il percorso insieme, ma anche il percorso di dimagrimento, quindi anche Chiara, anche se non ha fatto la sleeve, di riflesso, ha beneficiato di questo ciclo. Ha beneficiato di questa cosa e anche lei partiva, diciamo, da un peso molto superiore e siamo, diciamo, regrediti nel peso insieme. Riguardo alla sleeve, ne stavamo parlando prima, io non ricordo precisamente chi me ne ha parlato per primo, probabilmente io ne avevo sentito qualcosa nell'aria, ma come penso tutti, pensavo A, D, che non era il mio caso, non sono mica da 250 kg, ok, quello che ci diciamo tutti. Seconda cosa... Sono obeso, ma sano? Bravo, esatto. Non ho esami perfetti, perché comunque in questo caso, obiettivamente, esami del sangue perfetti. Sì, e soprattutto, dicevo, ma affrontare un intervento chirurgico per andare a togliere lo stomaco, ma cosa stiamo dicendo, è una cosa assolutamente fuori di testa, c'era una moda che magari passa, questo era più o meno la nuvola di pensieri che avevo. Successivamente però ho fatto la prima visita dietologica, anzi in realtà dal medico di base, e il medico di base mi fa, ma sì, ma adesso fanno un sacco di interventi, bypass, fanno la sleeve, vedrai che adesso ti mando dal dietologo, perché io sono andato prima dal dietologo, e lui poi ti spiegherà. Il dietologo mi ha accennato questa cosa e poi io sono andato... Sì, forse però ti aveva, adesso ricordo bene, ti aveva già detto di provare a fare una visita dal chirurgo. Sì, sì, certo, poi mi ha prescritto subito la prima visita chirurgica, perché visto l'indice di massa corporeo che avevo, visto che comunque ero elegibile, diciamo, l'età giusta, le condizioni fisiche accettabili per affrontare questa cosa, allora a quel punto mi ha mandato al chirurgo, il quale poi un paio di mesi dopo, intanto che facevo tutti gli esami, eccetera, mi ha spiegato in cosa consisteva. Io poi mi sono informato ovviamente prima, mi sono informato sui siti istituzionali, non sono voluto andare su forum strani, eccetera, ma sono incappato poi nei tuoi video, che sono stati l'altra fonte di informazione pratica, diciamo, che ho utilizzato nei mesi prima dell'intervento. Mi fa piacere che, anche perché stai raccontando un po' quello che ho fatto io, quando è stato il mio momento, ho cercato informazione, siti istituzionali, alcuni video fatti anche dai medici, che probabilmente erano troppo per me, perché non riuscivo a cogliere il messaggio, e poi ho deciso di farlo io, di raccontare la mia strada, che è una, però, e mi fa piacere che è stata d'aiuto. Secondo te, questo percorso che tu hai fatto, poteva essere reso più semplice o migliore, con qualcosa di diverso, o sei soddisfatto così come è andato? Allora, personalmente, io sono soddisfattissimo di come è andata, devo dire la verità, abbiamo avuto tutti e due una motivazione incredibile, quindi per cui è stato tutto molto facile, è stato facile anche digerire mai quelle cose che potevano essere pesanti per uno che poteva essere in dubbio o che poteva avere dei tentennamenti, ma onestamente non c'è niente che avrei cambiato. Il percorso psicologico io in realtà non l'ho fatto, perché appunto avevo il vantaggio di avere già messo sul piatto tutto, quindi per cui non avevo bisogno. Per quanto riguarda invece il percorso medico-clinico, quindi vari esami, eccetera, è stato tutto molto semplice, mi hanno spiegato tutto dalla Z, mi hanno prenotato loro anche qualche visita, c'è solo, l'unica accortezza è che il focus in quel momento deve essere, devi essere tu, se devi andare a fare la polisonnografia devi andare a farla, se devi andare a fare gli esami devi andare a farli, non ci sono lavoro che tengano, bravissima, e devi farlo, basta. Che voglio dire, sono tutte cose importanti, lavoro, figli, impegni, ma noi siamo più importanti, perché se noi non reggiamo, non teniamo, non stiamo più bene, si crolla tutto il resto. Esattamente. Sì, e soprattutto affidarsi veramente ai medici, fondamentalmente, a fonti attendibili, non cose per sentito dire, l'amico, il parente, il cugino, ma con razionalità, esatto, affrontare la cosa con razionalità, quello secondo me è stata la chiave. Sì, sì, assolutamente, esatto, e infatti quello che dicevi tu anche nei video precedenti, ma mi ha detto mio cugino che conosce il capo stazione, che ha fatto un intervento, è stato malissimo. Che non è servito a nulla. Esatto, ne abbiamo sentiti a bizzerre veramente, ne abbiamo sentito un sacco durante la nostra preparazione, ma sinceramente a me entravano di qui, uscivano di là. Io sono andato, io sono un po' nerd dentro, sono andato a leggermi gli studi che sono stati fatti per le percentuali di successo, eccetera, e i dati parlano. Alla fine la narrazione, il racconto singolo è importante, è importante come nel tuo caso perché capisci l'evoluzione, capisci i problemi, ti puoi preparare prima, serve come preparazione, ma non ti serve a sapere effettivamente l'efficacia di una procedura medica come questa. Quella puoi farla solo e esclusivamente con i numeri, e i numeri parlano, fortunatamente. Parlavi di cose più difficili da affrontare. Cosa è stato, quasi sono stati gli scogli che a distanza di quasi un anno ti ricordi che sono... Guarda, io non voglio far quello che non ha avuto paura di niente, ma sinceramente io non ho avuto nessuna difficoltà per il quanto riguarda le procedure mediche. Ho fatto anche la gastroscopia, che so che qualcuno ha fatto fastidio a me. Passato il momento, il resto poi durante il processo ho scoperto di avere patologie che non sapevo di avere, tipo la OSAS, quindi le apnee notturne molto gravi, avevo un indice di 52, quindi per cui ero veramente messo male senza saperlo, però al di là di quello non ho avuto problemi. L'unico problema grossissimo che ho avuto è stato smettere di fumare. Quella è stata, e lei può certificarlo, ho dovuto, io non sapevo neanche di dover smettere, nella mia ingenuità, tre settimane prima ho dovuto smettere. Prima ho provato di colpo, poi qualche giorno ho tentennato, c'è stato un giorno che sembravo un drogato, in crisi di astinenza, correvo davanti, su e giù dalle scale per cercare di placare la mia dipendenza di nicotina, e dopo mi è passato e adesso è praticamente, non un anno ma otto mesi, sette, otto mesi, e non ne sento l'esigenza. Quella è stata la cosa più difficile, il resto è stata veramente una pacchia, quasi. Sì, perché secondo me ha visto proprio nell'operazione chirurgica, perché l'incipite di tutto è stato, finalmente ho una soluzione medica al mio problema, quindi viene affrontato l'obesità come una malattia, e non come il solito pigro che non si muove, è un po' il discorso comune a tutte le persone operate. Quindi il pensiero di avere la soluzione medica, razionale, ripeto, che poteva risolvere il problema, è stata la motivazione, la benzina insomma che l'ha aiutato ad affrontare il tutto. Sì, questa cosa qua è una delle cose su cui vorrei insistere anche con chi magari ci sta ascoltando, perché chi è nel nostro stato, nel nostro stato di obeso, comunque si sente veramente abbandonato a se stesso, o meglio, sente che la colpa è solo ed esclusivamente dalla nostra forza di volontà, se non riusciamo a dimagrire è solo colpa nostra, perché siamo pigri, e invece non è così, non è assolutamente così, dobbiamo essere consapevoli che è una malattia, e da questa malattia si può guarire con l'aiuto di qualcuno. Non si può far tutto da soli, o meglio si può, ma magari è molto difficile, e non possiamo abbandonarci solo a nostra forza di volontà, perché siamo destinati a fallire. Anche perché se fossimo stati in grado di farlo, probabilmente non saremmo stati obesi tutta la vita. Bravissimo. Probabilmente avremmo reagito prima, e magari le persone che non sono obese è perché hanno reagito in modo differente a degli stimoli, degli stress, degli avvenimenti della vita che noi abbiamo gestito in questo modo. Magari hanno usato altro per compensare, magari qualcosa di sano, magari qualcos'altro di altrettanto malato e altrettanto sbagliato. Quindi siamo un po' tutti sulla stessa barca, e ognuno si sceglie un po' il suo veleno. Il nostro è stato il cibo. Esatto, è vero. Sempre per rimanere sulle difficoltà, tu dicevi, ci sono state alcune cose che mi hanno preoccupato, però le ho affrontate. Altre cose invece in cui, che pensavi sarebbero state difficili e non lo sono state per niente? In primis, l'intervento in sé. In realtà, sapevo, avendo visto i tuoi video, che non era l'intervento che avevo in mente prima di vederli. Pensavo una cosa molto più complicata, con un decorso molto più difficoltoso, più doloroso, eccetera, poi in realtà avevo visto già che con te era andata bene, però giustamente la sensibilità, il dolore, la struttura dove lo fai, i procedimenti, sono diversi, quindi è stato comunque un salto nel buio. e invece è stata, come dicevi tu, ti addormenti con un problema, ti svegli senza il problema e per me è stato veramente facilissimo. Dio di altro a cui dire sì, mi immaginavo qualcosa di difficoltoso, ti direi, no, forse lo svezzamento, ecco, pensavo anche lì che sarebbe stato un po' più complicato, però visto che lo fanno in molti, visto che comunque qualsiasi procedura bariatrica, a prescindere dalla sleeve, comporta comunque lo svezzamento di un mese, un mese e mezzo, ho detto, vabbè, lo fanno tutti, un mese e mezzo, portiamo pazienza. E infatti così è stato, è stato difficile dal punto di vista psicologico, no, difficile, no, è stato un po' impegnativo, ma niente di, niente di serio. Ricordiamo a tutti dove sei stato operato tu? Sono stato operato in Humanitas Gavazzini a Bergamo, dal dottor Marzano e dalla sua splendida equip, saluto e ringrazio. Allora, tu adesso sei a nove mesi circa dall'intervento, tu sei riuscito in qualche modo o ti è capitato di pensare e riflettere su cosa era secondo te che prima ti spingeva nella direzione di usare il cibo in un modo non corretto? Allora, è una cosa su cui spesso rifletto, non ho ancora trovato proprio la risposta, la risposta precisa. Una cosa che però posso dire che adesso guardandomi indietro è forse l'autostima. cioè quando uno è obeso finisce secondo me una sorta di spirale, di circolo vizioso in cui si ha meno sempre meno stima di se stessi e per cui il cibo serve per dare un po' di felicità di alleviare questa sofferenza però questo problema che uno ha e quindi la cosa si ripete all'infinito. Per me è stato un po' quello io appunto essendo così sin da giovane ho sempre avuto poca stima di me stesso tutt'oggi non è che non vado in giro facendomi le statue però mi voglio un po' più bene anche se ovviamente poi questo non vuol dire che risolvi tutti i problemi però col fatto che fai anche un percorso e comunque hai successo alla fine posso dire io al momento ho avuto successo in questo percorso ti dà la forza anche di affrontare anche meglio il resto le situazioni come ad esempio lo stress che era un'altra componente però non era l'unica cosa che scatenava ad esempio la mia fame nervosa perché io ad esempio l'ho detto ai medici e ho trovato riscontro anche con loro che ero uno che mangiava per noia ero uno che mangiava quando era stressato uno che mangiava quando era contento non è solo per solo per lo stress ma era per la mala gestione delle emozioni infatti quello che io ho scoperto quando sono andato dalla psicologa a cercare aiuto dopo l'intervento è stato non è fame nervosa è fame emotiva e ti porta dietro e ti apre un mondo perché non è solo una questione di stress di nervoso di noia ma è un mondo delle emozioni non so come gestirle e quello è un portofranco e questo a me ha aperto il mondo mi ha fatto vedere le cose da un punto di vista diverso e ha fatto una bella differenza oggi forte di questo successo vedi che qualcosa è cambiato nel tuo modo di fare nella vita di tutti i giorni allora come gestione come gestione delle emozioni nella vita di tutti i giorni sì sicuramente è difficile spiegarlo perché ovviamente sono sensazioni immateriali quindi non riuscirò a spiegarvi bene cosa vuol dire ma diciamo solo che riesco più a controllare me stesso sembra una cosa un po' forzata però sono diventato più grande mettiamola così anche se comunque 40 anni dovrei essere abbastanza abbastanza cresciuto però sì io mi sento più grande più forte ecco più consapevole quindi anche magari le piccole i piccoli imprevisti o le piccole fluttuazioni emotive gestisco meglio ti preoccupano meno? mi preoccupano meno sì vedo è brutto cioè è brutto da dire è bello da dire ma sembro sembro esaltato ma io vedo il futuro molto molto più sicuro più e migliore e quindi ho la forza di poter anche sopportare qualcosa di più adesso cioè questo è un po' lo state of mind attuale che è notevole che sia una cosa che anche si percepisce sì sì assolutamente sì sì se tu potessi tornare a te ragazzino nel momento più buio della tua adolescenza o della tua giovinezza e dirti qualcosa cosa ti diresti? non so benissimo cosa mi direi rivolgiti a uno specialista abbi fiducia nella scienza e cerca aiuto in chi ci è già passato queste quelle parole qua ascoltate dal me giovane sarebbero state la mia salvezza no non salvezza perché comunque non sono fortunatamente morto ma avrebbero reso migliore i 40 anni prima dell'intervento sicuramente invece domandona io ho tre persone che sono obese e che mi fanno preoccupare perché sono proprio persone che ho vicino e vorrei cercare in qualche modo di aiutarli ma non ci sentono scommetto che anche voi avrete qualcuno in mente che potrebbe veramente fare qualcosa per se stesso se provasse a prendere in mano prima dell'obesità che cosa gli vorresti dire? si è proprio una domandona io la risposta non l'ho trovata perché queste tre persone anzi facciamo quattro che vorrei portare per i capelli a fare la prima visita non riesco ad approcciarle quindi chiedo a voi lasciando nell'hanno minimato queste persone ma cosa vorreste dirgli? che la vita è veramente migliore con con i chili in meno detta così sembra banale però è veramente un altro ti vivi la vita in modo diverso poi finalmente metti al primo posto te stesso questa cosa secondo me l'abbiamo fatta un po' entrambi ovviamente lui maggiormente perché ha subito un intervento tutto quanto però quando inizi a prenderti cura di te stesso a volerti bene proprio emagni una luce anche verso gli altri che è diverso cioè attiri positività sembra una roba new age ma non lo è è veramente così perché ti vuoi bene ti rispetti e quindi anche verso gli altri ti fai rispettare bravissimo ti fai rispettare cose che prima io avrei tollerato da tutti e da tutti adesso metto dei paletti che non vuol dire dar fuori di testa ma mettere dei paletti esatto sì quindi bisogna è difficile il primo passo è il più difficile ovviamente però sì va fatto va fatto perché ripeto migliora la vita in maniera esponenziale e sì e soprattutto avendo anche una persona come te che potrebbe anche cioè potrebbe può testimoniare l'efficacia dell'intervento a maggior ragione perché comunque Ale mi ricordo prima dell'intervento era tutto emozionato quando pubblicavi i video Ale ha fatto un nuovo video guardiamolo sembrava tipo i bambini davanti al carosello negli anni 50 una roba così però no no c'è la testimonianza aiuta tantissimo la testimonianza diretta aiuta tantissimo quindi sì a livello di convinzione a chi vedo che potrebbe migliorare la propria vita ma non non ha ancora il coraggio di farlo non riuscirei a dire niente di materiale l'unica cosa che potrei potrei fare vedere appunto il nostro percorso perché alla fine uno può anche spiegarlo a parole io posso dire guarda la mia vita veramente cambiata in meglio ma in meglio ma di tanto e uno però dice vabbè ma te è funzionato così ma magari con me non funziona oppure sì ma tu adesso sei esaltato perché c'è anche quell'aspetto ne riparleremo fra qualche anno vedrai sai quanti dopo poi riprendono tutto il peso bravissimo e invece invece se se guardano il il tuo percorso ma anche tu stesso cosa come sei diventato probabilmente quella è il modo forse migliore l'incentivo migliore certo è che uno deve prendere atto di avere una malattia e di poter cambiare quella è la base è il primo passo di tutto anche perché non è tanto che ti migliora la vita perché ti liberi dei chili cioè sì ti liberi delle comorbidità delle comorbosità delle malattie eccezionale dimagrisci e quindi stai meglio eccezionale ma il vero passaggio viene dopo quando inizi a ragionare in un modo differente su te stesso io avevo paura di cambiare non sono cambiato non sono snaturato rispetto a chi ero ma adesso utilizzo le mie risorse in un modo differente butto via molta meno energia a correre dietro a delle cose a delle persone che non lo meritano mi concentro molto di più su chi e cosa merita le mie energie la mia attenzione il mio tempo a partire da me stesso che prima ero sempre mi mettevo sempre in fondo alla lista perché era come se non meritassi di avere un posto al sole questo è è un po' quello che cambia e poi ovviamente più ti tratti bene più quelli intorno a te ti trattano bene e tutto prende un'altra un'altra piega assolutamente parole sante chiara sì allora lui ha fatto il passo dell'intervento dicevi che anche tu ti sei messa un po' in riga e hai migliorato la tua situazione da un punto di vista di sovrappeso di non so ecco sì infatti come diceva Ale appunto è stato un percorso diciamo in coppia perché io vabbè non me la sentivo di affrontare l'intervento sono sincera e poi volevo un po' tra virgolette vincere una sfida contro me stessa mettiamola così e provare a seguire un vero percorso perché anche io fin da ragazzino sempre stata sovrappesa obesa quindi la solita dieta un po' fai da te fatta magari dopo la maturità che aveva dato risultati ma poi chi li riprendi tutti insomma un po' una storia abbastanza comune diciamo appunto sempre l'anno scorso appunto abbiamo fatto questa visita il medico ci ha fatto notare entrambi ma soprattutto me che avrei dovuto perdere peso e questa cosa migliaia di dottori decine di giorni dottori me l'hanno detto durante la mia vita però quel dottore non lo so ha usato ecco magari un modo proprio cioè abbastanza strong però probabilmente mi è servito mi ha fatto scattare qualcosa e quindi anche io mi sono voluta diciamo è così mettere in gioco e ho deciso di appunto iniziare a mangiare meglio a fare movimento perché nel mio caso veramente ero proprio la tipica sedentaria e nulla quindi però diciamo la cosa che ci diciamo sempre noi due è che il fatto che entrambi abbiamo migliorato il modo di alimentarci seguiamo una dieta comunque più che una dieta proprio un stile alimentare più sano più corretto equilibrato è stato di grandissimo aiuto perché ovviamente se uno dei due avrebbe avesse continuato a mangiare in modo sbagliato anche l'altro sicuramente ne avrebbe risentito quindi c'è stato questo circolo virtuoso che si è nestato quindi vabbè sicuramente lui mangia meno per ovvie ragioni di capienza del stomaco e tutto quanto però ecco aiuta tanto ci si motiva entrambi poi abbiamo iniziato anche a fare sport insieme ma cose banali tipo la camminata e anche quello è stato un modo di cioè per assurdo stiamo abbiamo più tempo insieme adesso che prima perché comunque fai delle attività in comune cosa che prima cioè si stava insieme però sai ti ricavi quel momento proprio che dici adesso faccio qualcosa per me stessa che mi fa stare bene non mi interessa niente esco dopo otto ore dal lavoro non ne sto in ufficio 12 ok quindi esco alle 5 torno a casa faccio una mia bella passeggiata con ale con la cagnolina quello che è e da lì c'è tutto questo circolo virtuoso perché vedi i risultati la bilancia vedi la lancetta che ecco ti senti meglio ti senti più più sicuro in te stessa un po' diciamo le cose che dicevamo prima e quindi è una motivazione pazzesca fondamentalmente dopo certo ovviamente c'è un po' sempre il timore di ricadere nelle brutte abitudini del passato poi io dico io non ho fatto l'operazione quindi non ho neanche il limite di dire non posso mangiare più di questo però per il momento sono soddisfatta quindi diciamo il percorso sembra quello corretto ecco posso chiederti da che indice di massa corporea partivi se te lo ricordi se è che penso 37 sul 39 sotto il 40 o vicino a 40 comunque si e adesso dovrei essere sul 30 non mi ricordo più vado un po' a memoria ma potrei dire dei numeri totalmente sbagliati più alto e più basso adesso però dovresti controllare dopo in sovraimpressione esatto così vediamo qui sotto beh direi che anche tu io ho tenuto un risultato fantastico sì ho perso 36 kg in un anno quindi sono contentissima la prima volta nella mia vita quindi assolutamente sì sono contenta tu invece quanti ne hai persi fino ad oggi? ad oggi siamo sugli 88 88 kg ho perso la metà del peso iniziale sostanzialmente qualcosa del genere sì sì a dirlo 88 kg in 9 mesi allora è strano da dire io prima dell'intervento appunto Miro ci siamo messi a dieta nel senso abbiamo ci siamo purtroppo abbiamo fatto una cosa che non andrebbe fatta quindi don't try this at home ci siamo fatti un po' il fai da te ma consapevole cioè io ho preso abbiamo preso le linee guida dell'OMS abbiamo visto come uno dovrebbe mangiare abbiamo preso le basi della dieta mediterranea e non ci siamo inventati niente di nuovo abbiamo cominciato a mangiare più verdure più proteine meno grassi meno condimenti esatto meno conditi abbiamo ridotto lo zucchero facendo così io ho perso 35 kg praticamente da aprile fino a luglio 35 se ne erano già andati quindi sono arrivato all'intervento con molti kg in meno per sollievo del chirurgo certo e dell'anestesista esattamente esattamente tra l'altro a completamento di quello che dicevamo prima io senza di lei veramente non ce l'avrei fatta perché i primi mesi allora a me non è stato pesante niente del mio percorso cioè è stato impegnativo ma non è stato pesante e questo è anche grazie al fatto che avevo in parte una persona che mi supportava mi ha supportato in tutto per tutto e io di conseguenza ho sempre supportato lei è stato un bel volano un bel volano se io se io fossi stato da solo ad affrontare il percorso probabilmente a livello emotivo psicologico non so se avrei retto il ritmo che ho retto e quindi tutti questi chili magari sarei arrivato a fare l'intervento con gli stessi chili di quando ho fatto la prima visita dal chirurgo comunque avrei ottenuto sicuramente risultati perché questo questo strumento qua ti dà proprio il là a tutto ragazzi è un messaggio bellissimo che state dando sia a chi è interessato all'intervento perché è importantissimo e sia a chi vuole provare a riprendere un pochino in mano le cose senza l'intervento perché comunque il discorso non è neanche intervento sì intervento no ma l'obesità è una malattia punto l'obeso non può e non è sano prima o poi vengono a galla problemi più o meno grandi e li abbiamo tutti si affrontano si affrontano in tanti modi io personalmente senza la chirurgia non credo che sarei andato da nessuna parte Chiara sta ottenendo dei risultati fantastici perché 36 kg tanto di cappello 88 kg Ale non sto neanche a commentarlo perché se li consideri su 9 mesi quindi vanno calcolati su 9 mesi o su 12 no su 9 su 9 mesi no scusa su 12 su 12 ok sono quasi 90 kg in un anno diciamo che a tal proposito tento anche sottolineare che l'ultima visita col chirurgo mi ha detto che insomma adesso dovrei fermarmi quindi per cui diciamo che io ho accelerato ma adesso dovrei darmi un attimo una calmata perché ho raggiunto diciamo l'obiettivo l'obiettivo poi alla fine non è importante in quanto tempo perché ognuno c'è il proprio passo ognuno il fisico reagisce in modi assolutamente diversi quindi non prendete il dato degli 88 kg come riferimento a me tra virgolette è andata bene così perché io sono stato bene così se ce ne mettete due anni ce ne mettete tre anni se perdete 10 kg anziché 15 non è quello non è la differenza è la strada e fare pulizia in testa esattamente è la sostenibilità dell'intervento perché l'intervento come ci ripetiamo sempre è uno strumento che va usato con cura con saggezza e visto nel lungo periodo perché non è una dieta di Hollywood non è lo Zempic di cui si parla ora ma è una cosa duratura che deve durare il più possibile se no diventa un'altra dieta di quelle che ho perso un sacco di chili e ho ripreso un sacco di chili perché se non cambi la testa continuerai a ripetere le stesse cose ragazzi io vi ringrazio davvero di questa chiacchierata anche perché sono venuti a galla secondo me degli argomenti delle cose che non sono mai venute fuori prima quindi come al solito io mi sento più ricco grazie a voi e grazie a tutti se non siete iscritti al canale iscrivetevi al canale lasciate il like mettete i commenti prima o poi rispondo a tutti anche se ultimamente sono un po' lento e se volete abbonarvi o lasciare dei super grazie mi aiutate anche in un modo un pochino più venale ma serve anche quello purtroppo grazie a tutti davvero e al prossimo video ciao 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 Ale ciao Chiara ciao Ale grazie mille e a presto ciao intervista è fidata bene no bello dai ne fatti pensavo fosse più difficile invece no vabbè grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti